buongiorno a Fabio ragazzi liscio e macchiato di verdi eh ventun giugno prima edizione estiva ancora un appello a chi ci segue a iscriversi al nostro canale buona estate soprattutto oggi appunto inizia l'estate che è iniziata con almeno qui a Brissago con una bomba d'acqua buongiorno ragazzi consigliere agli stati e presidente dell'Unione Svizzera di Arti e Mestieri eh com'è dalle vostre parti lei dovete e tu dove sei? Eh buongiorno beh eh anch'io ho fatto la stessa riflessione eh oggi inizia l'estate mi trovo a Champery per il convegno estivo dell'Unione Svizzera eh Arti e Mestieri dedicato ai romandi e eh anche qua il tempo è eh orribile eh piove da 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 questa da questa notte vento freddo quindi diciamo che l'estate non inizia sotto i migliori auspici ma restiamo fiduciosi bene allora eh cerchiamo di fare un eh un analisi delle principali notizie che abbiamo scelto per questa settimana e iniziamo con il commento odierno di Tito Tettamanti sul Corriere del Ticino che ci dà lo spunto per tornare sulla conferenza di pace o presunta tale del Burger Stock svoltasi nel weekend scorso ci sono critiche pungenti all'evento e anche al ministro degli esseri Cassis partendo eh dal dibattito politico sull'iniziativa popolare rinanziata dell'Udc sulla neutralità eh cosa scrive Tettamanti adesso vi faccio vedere anche il eh eccolo qua allora cosa scrive? Scrive la neutralità esige sacrifici innanzitutto quello imposto dalla modestia saper rinunciare alle luci dei riflettori il dipartimento degli affari esteri su posizioni spesso non completamente neutrali per partecipare ai giochi il nostro ministro degli esteri in un momento estremamente delicato dimentica che il grande diplomatico non è quello consenziente ma eh quello che convince le parti eh quale semplice cittadino scrive Tettamanti considero l'inizio della guerra da parte di Putin un atto criminale posso abbracciare con effusione Zelensky per sottolineare la mia solidarietà ma il rappresentante del governo svizzero deve contenere le emozioni e a tenersi e a tenersi a forme che evitino di mettere in forse l'imparzialità di giudizio per quanto riguarda il Burger Stock voluto da Zelensky organizzato dalla Svizzera scrive Tettamanti ha dimostrato la nostra abilità organizzativa ma anche la mancanza di vera autorevolezza. Allora Fabio Ragazzi Fabio che ne pensi di questa analisi di Tettamanti? Beh come sempre Tito Tettamanti eh ci fornisce delle analisi di grande lucidità coerenti con quelle che sono da sempre i suoi pensieri e le sue convinzioni beh fondamentalmente eh c'è eh una buona parte di ragione secondo me nella nella sua valutazione eh una conferenza di pace come questa avrebbe avuto senso e lì sì la Svizzera avrebbe giocato veramente un ruolo fondamentale qualora eh fossimo riusciti a eh convocare eh entrambe eh le parti eh in in guerra quindi l'Ucraina ma evidentemente anche la Russia. Invitare o non invitare rispettivamente la Russia perché a quanto sempre Zelensky non eh era eh interessato non era disposto semmai a partecipare eh a mio avviso è stato un errore eh è vero che abbiamo dimostrato grande eh abilità e capacità organizzative perché organizzare una conferenza del genere deve essere stato un impegno eh umane ma eh alla fine il risultato a mio avviso è piuttosto scarso perché eh senza senza che le due parti abbiano potuto dialogare e e confrontarsi e cercare delle una via d'uscita a questa eh a questa assurda guerra eh chiaramente ho l'impressione che eh si è rimasto ben poco di questo eh di questo di questa conferenza quindi eh in definitiva anche se non l'ho ancora letto per intero il passaggio che eh che hai eh riproposto eh mi trovo assolutamente consenziente. Allora cambiamo eh tema e restiamo a livello nazionale con il Ticino di oggi apre con la notizia eh che cura e futura cura futura e sante suisse non saranno più le rappresentanti delle casse malati svizie. C'è stato una sorta di terremoto ehm nel mondo le casse malati e i maggiori assicuratori malattia hanno fondato una nuova associazione di categoria che inizierà l'attività nel duemila e venticinque. La nuova associazione intende porre fine all'attuale duopolio di due assicure associazioni mantello e rafforzare la rappresentanza degli interessi del settore delle situazioni malattia. In futuro le società coinvolte potrà parleranno con un'unica voce. Quindi allora stanchi della guerra e delle guerre intestine che minavano credibilità del settore tredici tra i principali istituti che rappresentano tutti insieme il novanta per cento degli assicurati hanno deciso di togliere la spina a eh alle due organizzazioni di categoria e di creare una nuova. Tra l'altro cura futura era stata preseduta ai tempi dallo stesso Ignazio Cassis quando era consigliere nazionale. Se cura futura conta solo sedici collaboratori. Santa e Suisse ne ha ben duecento eh quindi insomma eh c'è il rischio di un terremoto vero e proprio. Però da parte sua sia i medici svisseri sia la sesta Santa e Suisse si dicono soddisfatti che il settore torni a parlare con una sola voce. Allora ehm negli scorsi nelle scorse settimane Marco Romano eh tuo ex collega consiglio nazionale ehm è stato nominato responsabile di 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 cura futura adesso si trova in questa situazione non so se tu l'hai sentito ieri che cosa sta succedendo secondo te? Beh hai detto bene si tratta di un vero e proprio terremoto eh ieri mi sono eh mi sono sentito anche se solo eh per via eh di sms eh con Marco Romano eh che a sua volta eh 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 naturalmente piuttosto sconcertato dalle modalizioni eh i contorni devo ammettere non sono ancora molto mi sembra condivisibile eh di fondo ma constato che per il momento adesso le voci sono tre perché le due associazioni eh esistenti eh al momento sono ancora eh in essere eh adesso spunta questa nuova realtà bisognerà capire cosa succederà con le altre due eh associazioni a mio avviso eh avrebbe fatto più senso visto che gli attori eh di queste principali nelle nelle due eh nelle due associazioni hanno preso questa decisione beh a me sembra che sarebbe stato forse più logico eh eh cercare di portare avanti una fusione tra queste due eh realtà eh forse sarebbe stato anche più eh spiegabile adesso in questa iniziativa eh bisognerà capire nelle prossime settimane nei prossimi mesi eh cosa 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 porterà come si intende ci si intende ci si intenderà muoversi e cosa succederà soprattutto delle due eh realtà eh eh esistenti e cura futura e Sanche Suisse quindi a me sembra per il momento che prevale la confusione piuttosto che eh la chiarezza però forse nelle appunto come hai detto nel nel prossimo futuro ne capiremo di più. Ecco è preoccupante secondo te questa eh nuova grande associazione di Mantello perché si dice sempre che insomma le lobby delle casse malati sono importanti e preminenti nella decisioni politica a Berna. Beh che le casse malati abbiano un ruolo importante a livello politico questo è innegabile. D'altra parte eh sono portatrici di interessi molto eh molto appunto importanti e quindi eh è inevitabile che che sia eh che sia così eh difficile dire eh al momento cosa cosa succederà eh non è preoccupante il fatto in sé anzi lo ritengo positivo che si cerchi in futuro di parlare con una voce sola eh perché in passato abbiamo assistito più a delle diatribe fra le stesse associazioni eh che praticamente dovrebbero difendere gli stessi interessi che eh che invece portare avanti una linea condivisa e comune però finché non sarà fatta chiarezza questo obiettivo per il momento rimane rimane solo eh sulla carta eh quindi è veramente al momento è difficile eh esprimere un parere fin tanto che non se ne saprà di più non se sarà non avremo capito eh dove 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 vogliono andare a parare. Ecco allora adesso qua vi diamo anche l'articolo della Regione che dedica anche alla Regione un ampio spazio a questa notizia che è arrivata ieri. Allora adesso facciamo un passo indietro di qualche giorno e torniamo al dibattito parlamentare dei giorni scossi in Gran Consiglio ma torniamo anche alla polemica nuova polemica eh che ha investito il ministro Norman Gobbi. Allora c'è un editoriale dei giorni scorsi diciannove zero sei diciannove giugno di Gianni Righinetti eh vi leggo la sintesi sostanzialmente direttore del dipartimento di istituzioni non finisce mai di stupire appurato che da profilo penale per il caso del famoso incidente in Leventina non c'è nulla ci si poteva attendere da parte del governo la decisione di restituirgli la responsabilità politica della polizia ma questo non è avvenuto il governo ha fatto comunicato dicendo per intanto ancora no aspettiamo che cosa succede sul fronte penale no perché ci sono comunque due agenti colpiti da un atto d'accusa anche una minima anche per una minima considerazione scrive Righinetti e comprensione nei confronti di questi due agenti ci attendevamo da parte del consigliere di Stato un rispettoso silenzio invece le uscite infelici si sono sommate una dopo l'altra in maniera persino stucchevole l'ultima in ordine cronologico lunedì in consiglio in merito all'autosospensione cosa ha detto Gobbi la mia autosospensione non è più tale aspetta al governo prendere l'ultima decisione un'altra fuga in avanti intanto il collegio governativo sembra piombato in un tremendo imbarazzo e qui abbiamo poi visto eh il giorno successivo la reazione di Cristian Vita che eh dice insomma autosospensione la conduzione politica resta in mano a Zale finché il governo non avrà deciso che cosa succederà su questo fronte eh non ti pare che insomma c'è voglio dire se le vada un po' a cercarlo Armand Gobbi tra l'altro Armand Gobbi che domenica è stato riconfermato fino alla fine dell'anno coordinatore della Lega quindi continua ad avere questo doppio ruolo un po' come dire eh eh difficile da gestire no ministro e coordinatore poi questa uscita del Gran Consiglio non non ha fatto sicuramente il suo gioco che dici? Ma io ho seguito con un certo distacco lo confesso tutte queste eh vicende naturalmente leggo sono informato ma non ho nemmeno proprio più di tanto però quello che emerge chiaramente che siamo di fronte a si potrebbe dire dell'ennesimo eh pasticcio eh che si sarebbe potuto evitare io credo che il governo ticinese in questo momento avrebbe bisogno di ritrovare un po' di compattezza un po' di serenità eh dopo le le ultime eh gli ultimi mesi eh piuttosto difficili di tensione eccetera e queste uscite sicuramente questi episodi non eh aiutano un po' più di prudenza un po' più di circospezione ma eh lasciamelo dire forse un po' più di buonsenso eh non farebbero male e quindi l'invito se posso permettermi è quello a tutti di eh di eh cercare di 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 moderare i toni di di evitare eh uscite che sappiamo bene su un tema sensibile come questo soprattutto in un cantone come il nostro eh hanno hanno delle delle conseguenze a volte anche devastanti ecco basterebbe forse un po' più di prudenza e di buonsenso come dicevo per per perlomeno non incappare in questi scivoloni eh che non fanno non fanno bene a nessuno eh soprattutto all'immagine del nostro governo e in definitiva del nostro cantone perché poi queste 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 notizie hanno sempre un eco anche al di là eh delle Alpi e come come vengono prese come è stata letta al di là delle Alpi questa storia di Gobbi ma adesso eh non ho dei riscontri diretti su 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 delle valutazioni che eventualmente sono state fatte ma eh bisognerebbe far passare eh la diciamo la 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 rassegna stampa eh oltre che ci viene messa a disposizione eh appunto al di là delle Alpi per dove probabilmente ci saranno eh dei delle dei dei riferimenti a queste a queste a questo episodio a queste a queste vicende e generalmente non non ci fanno non ci fanno eh del bene. Ecco ma i tuoi colleghi te ne hanno parlato cioè ti hanno chiesto ma cosa sta succedendo il Ticino? Ma guarda adesso dopo la sessione io non sono più stato eh a Berna eh in questi giorni sono in Svizzera Romanda forse lì gli ecchi ehm ci mettono un po' più ad arrivare e tendenzialmente la Svizzera Romanda non si interessa molto a quello che succede in cantono Ticino ma eh immagino che nel resto della della soprattutto nella Svizzera interna eh non 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 giungano eh commenti eh lusinghieri su tutta questa eh vicenda in generale eh so di là dei 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 protagonisti e di chi ha detto eh che cosa è veramente un po' un uno uno spettacolo che sarebbe meglio ehm spettacolo per modo di dire eh che sarebbe meglio eh evitare evidentemente eh eh e vale anche in altri ambiti eh penso alla decisione sul 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 consuntivo che è stato bocciato anche lì eh francamente faccio un po' fatica da osservatore esterno a a capire eh cosa sta succedendo tra l'altro con la lega che ha fatto da ago da della bilancia in questa bocciatura allora cambiamo argomento e veniamo a un tema a te caro in quanto presidente dell'Unione di Svizzera arte e mestiere il consiglio federale ha eh sostanzialmente detto la sua sulla basta che c'è scusate c'è il cane eh il presidente del il consiglio federale eh dice no all'istitiva popolare duecento franchi bastano ed era ovvio ma propone una riduzione graduale del canon entro il duemilaventinove che passerà da trecentotrentacinque a trecento franchi allora la seconda modifica riguarda le imprese intende alzare la soglia per il pagamento del canone dagli attuali cinquecentomila franchi di fatturato si passerà a uno virgola due milioni in questo modo a partire dal duemilaventisette l'ottanta per cento delle imprese soggette all'IVA non pagheranno più il canone scrive il governo allora l'SSR ha applaudito a questa presa di posizione del consiglio federale contro l'iniziativa duecento franchi bastano con una presa di posizione pacata che riflette un po' anche probabilmente eh la come dire l'atteggiamento della nuova direttrice Susanne Villi della SSR allora poi ci sono però i sindacati che si sono detti preoccupati sia sindicom sia il sindacato soprattutto SSM che parla di una decisione sconcertante no che mette in pericolo il servizio pubblico allora che ne pensi di questa decisione del consiglio federale era una decisione preannunciata eh il consiglio federale Rösti l'aveva già eh detto eh alcuni mesi fa eh che avrebbe portato avanti questa proposta l'ha messa in consultazione e ieri eh o l'altro ieri il consiglio federale l'ha approvata si tratta di una risposta eh al all'iniziativa duecento franchi bastano eh l'obiettivo è evidente quello di togliere eh un po' il vento dalle vele da questa iniziativa che sembra comunque riscuotere un certo eh un certo interesse anche un un certo eh consenso soprattutto nella Svizzera eh tedesca eh quindi a mio avviso ci sta una riduzione moderata eh che porterà più o meno un dieci per cento o meno eh di introiti meno eh rispetto alla situazione attuale eh la reazione della SSR personalmente l'ho anche eh apprezzata scusate tu parla intanto che devo fermare il cane vieni dentro ciao ciao ecco scusate piccolo inconveniente mattutino andiamo avanti riprendo dicendo che eh eh che il questa decisione a mio avviso è eh ragionevole è un è un tra l'altro verrà fatto in due tappe questa 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 riduzione eh parliamo appunto di un dieci per cento in meno di introiti che secondo me sono gestibili con delle misure di razionalizzazione eh rinunciando magari anche a qualche eh a qualche eh programma non strettamente eh necessario eh e la la SSR a mio avviso ha reagito positivamente eh ha preso atto non c'è stata la reazione scomposta che invece eh era stata era stata preadottata dal dal predecessore della nuova eh direttrice eh i sindacati beh evidentemente non potevano eh applaudire però adesso dire che si mette in pericolo il servizio pubblico direi andiamoci piano è una variazione in questo caso un po' isterica eh con questa misura sicuramente il servizio pubblico non viene messo eh in in discussione ci mancherebbe altro eh c'è grasso che cola eh nella SSR e quindi c'è la possibilità in modo non dico indolore ma comunque senza troppi senza troppi contraccolpi di eh fronteggiare questa 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 riduzione eh e anche eh con con dei provvedimenti che che non necessariamente dovranno eh essere così eh dolorosi per cui eh io direi che eh il governo ha adottato una decisione che è eh comprensibile e che permette anche di eh forse eh togliere un po' di forza alla all'iniziativa e eh invece per quello che riguarda le aziende è inutile nascondere che non siamo eh per nulla soddisfatti eh noi riteniamo che questa insulsa e iniqua eh doppia imposizione debba essere eh tolta le aziende non devono più pagare il canone eh è il nostro eh obiettivo dichiarato e eh questa proposta è eh dal nostro punto di vista puramente cosmetica eh non cambia molto sul sul principio il fatto di aumentare il limite di esenzione per cui continueremo a batterci per questo eh obiettivo. Quindi insomma non vi basta questa sostanzialmente questo passo verso di voi del Consiglio federale a meno quanto proposto dal governo cioè quindi esentare eh l'ottanta per cento delle aziende che oggi sono sottoposte al caro non basta ancora no? No no non basta perché qui diventa veramente una questione eh di di principio l'abbiamo scritto anche nella nostra nostro comunicato stampa in risposta a questa decisione e eh abbiamo anche detto e ricordato che il Tribunale federale amministrativo ha eh sancito che questa eh che questa questo prelievo basato sulla cifra d'affari è eh viola alcuni principi costituzionali eh ed è un po' la tesi che portiamo avanti da tempo quindi già per il fatto che si tratta di una doppia eh imposizione visto che i dipendenti pagano privatamente il canone e eh e anche in virtù di questa di questa eh chiara eh evidente eh incostituzionalità della della di questo prelievo eh noi riteniamo che bisogna andare fino in fondo e ci batteremo per questo eh obiettivo. Allora poi ci sono stati evidentemente i commenti io eh riassumo brevemente i due editoriali del Corriere del Ticino con Paride Pelli e della regione con Daniel Risser allora che scrive Paride il mondo dei media pubblici e privati sta attraversando un cambiamento epocale insieme a tutta la società stanno mutando le modalità di funzione delle notizie della cultura un processo che va affrontato senza isteria con grande cura e attenzione da parte della politica di tutti i cittadini perché riguarda aziende su cui è incardinata la democrazia così come la conosciamo e così come riteniamo di volerla in futuro. Questo è eh Paride Pelli adesso andiamo invece a Daniel Risser che eh sicuramente un commento molto più negativo rispetto alla posizione alla decisione della proposta del governo dove Risser dice ragione il consigliere federale dei resti quando spiega che il governo è contrario all'iniziativa dei duecento franchi perché se fosse accolta la quota del canone destinata ad essersi ridurrebbe a circa seicentotrenta milioni contro eh circa cioè la metà sostanzialmente di quello che incassa oggi l'SSR sotto forma di canone e ciò rappresenterebbe un forte attacco alla sua struttura parole quelle espresse dal capo del dipartimento che mal si concigliano con le idee promosse dai suoi compagni di partito imbarcati in una crociata ideologica contro l'SSR e contro la pluralità dell'informazione in generale e poi infine una nota sul Ticino si aggiunge un paradosso esclusivamente di cinese quello di voler mettere in discussione uno dei pochi meccanismi perequativi se non l'unico che attualmente favorisce il nostro cantone ma ormai è noto da noi la coerenza non abbonda. Allora su Ritzer su queste parole di Ritzer eh in sostanza quindi siamo un po' abbiamo un po' la mania di tafazzi quello che si si picchiava insomma no? Sappiamo eh perché vogliamo smontare un sistema pericolativo che favorisce il Ticino che è quello del canone ripartito non secondo eh la popolazione ma eh quindi voglio dire un canone maggiorato che arriva al Ticino e quindi riesce a eh mantenere una realtà come la RSI e poi soprattutto il fatto che lui parla di una posizione ideologica da parte dei sostenitori dei duecento franchi bastano quindi voi compresi insomma eh posizione ideologica? Eh ideologica quando si fa politica c'è sempre una componente ideologica solo che eh a Ritzer non va bene solo quando arriva eh dalla dalla destra quando invece eh l'ideologia eh la 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 porta avanti eh la sinistra e lo fa spesso l'abbiamo visto sul recente sulla recente votazione eh contro gli sgravi fiscali allora invece lì eh va tutto bene quindi è chiaro eh Ritzer ha una posizione eh ideologica o ideologicamente schierata e e difende la sua linea però eh è decisamente molto eh strabico perché eh è solo pronto a a criticare e a denigrare le proposte che arrivano eh dall'altro fronte. Eh detto tutto questo eh il sulla questione eh perequativa beh intanto eh per il momento la 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 ripartizione rimane intatta quindi il Ticino continuerà a prendere anche se la torta si eh si rimpicciolirà e comunque il venti eh per cento quindi il meccanismo non è messo in discussione ma anche la stessa iniziativa forse Ritzer non lo sa eh comunque eh non eh prevede che il la la ripartizione attualmente eh che che attualmente in vigore eh dovrebbe essere verrà confermata però eh qui il discorso è è diverso eh adesso come ogni realtà quando eh i tempi cambiano eh lo dice lui stesso eh bisogna avere il coraggio di eh affrontare eh questi questi queste mutazioni, questi cambiamenti anche eh da 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 parte dei dei fruitori del servizio eh pubblico e quindi pensare che tutto rimanga come sempre come è sempre stato in passato mi sembra una pia illusione eh ed è a mio avviso corretto che la SSR eh rimetta in discussione alcune alcune suoi alcune sue sue eh mansioni su attività che svolge e eh una riduzione moderata come quella che viene proposta eh ripeto parliamo di un dieci per cento eh per un'azienda che incassa eh uno virgola due o quasi tre miliardi di franchi non mi sembra una cosa così insostenibile per cui direi di abbassare un po' i toni eh come dice giustamente Pari De Pelli affrontiamo il tema senza eh i isterismi che non che non servono a niente e che non non contribuiscono a a a un dibattito che invece deve rimanere eh più possibile oggettivo eh anche se inevitabilmente qualcuno eh ci mette anche una componente ideologica personalmente non nego eh rinego questa accusa o o o la rimando per me non è una questione ideologica è semplicemente una questione eh di di fattuale. Ultima domanda per chiudere eh c'è margine allora secondo te perché l'USAM e a quali condizioni l'USAM che tu presiedi possa cambiare opinione e uscire dall'accordata dei sostenitori dei duecento franchi bastano quali dovrebbero essere le condizioni si voterà probabilmente forse non si sa nel duemilamenti sei eh su questa iniziativa. Eh è molto semplice le nostre condizioni sono quelle che ehm tra l'altro è un oggetto eh le condizioni minime intendo eh oggetto di una mia iniziativa parlamentare che era passata al nazionale anche con un un buon margine ma poi era stata bocciata agli stati quando io ero ancora nell'altra camera eh e cioè che perlomeno le piccole e medie aziende cioè quelle fino a duecentocinquanta eh collaboratrice collaboratori secondo la definizione dell'ufficio federale di statistica eh siano esentate dal canone anche se l'obiettivo eh sarebbe quello di abolire totalmente il canone eh a carico delle eh delle imprese come eh per i motivi che ho ricordato prima però a queste condizioni noi evidentemente eh come usam eh saremmo soddisfatti e eh chiaramente eh avremmo raggiunto il nostro obiettivo e potremo anche eh eh e questo non starà solo a me deciderlo ma eh parto dal presupposto che a quel momento ritireremo il sostegno all'iniziativa. Vedremo dunque come andrà il dibattito quali saranno poi le prossime prese di posizione vedremo anche cerchiamo di capire quando andremo poi a votare su questa iniziativa perché la data del voto è ancora abbastanza aleatoria. Grazie a Fabio Ragazzi per essere stato con noi questa mattina e avere commentato le notizie da settimana. Noi torniamo con questa edizione estiva il prossimo venerdì. Buona giornata a tutti e buona estate. Grazie anche da parte mia e buona estate.